Molti di noi desiderano cambiare il proprio look senza ricorrere a prodotti chimici aggressivi. La tintura naturale al caffè è un modo affascinante e sostenibile per ottenere un castano lucido senza compromettere la salute dei capelli. In questo video, esploreremo i passaggi chiave per ottenere una tintura al caffè efficace e rispettosa dell'ambiente. Per iniziare, raccogli tutti gli ingredienti necessari. Avrai bisogno di caffè in polvere, preferibilmente biologico, bacinella, filtro per caffè, guanti di gomma, una vecchia camicia e balsamo per capelli. Inizia preparando una tazza di caffè molto forte. Maggiore sarà la concentrazione, più intensa sarà la tintura. Lascia il caffè raffreddare a temperatura ambiente. Dopo che il caffè si è raffreddato, versa il liquido in una bacinella attraverso un filtro per caffè. Questo separerà i grumi di caffè, lasciandoti con un liquido uniforme e senza residui. Indossa guanti di gomma e una vecchia camicia per proteggere la pelle e i vestiti. Applica il caffè sui capelli puliti e asciutti, assicurandoti di distribuirlo uniformemente dalla radice alle punte. Puoi utilizzare un pennello per tintura per semplificare il processo. Una volta applicato il caffè, avvolgi i capelli con della pellicola trasparente o una cuffia per la doccia. Lascia agire la tintura per almeno 30-60 minuti. Maggiore sarà il tempo di posa, più intensa sarà la tonalità. Dopo il tempo di posa desiderato, risciacqua i capelli con acqua fredda fino a quando l'acqua risulta chiara. Applica un balsamo per capelli idratante per chiudere le cuticole e mantenere l'idratazione. Asciuga i capelli naturalmente o utilizza un asciugacapelli a bassa temperatura per evitare danni. Ammira il tuo nuovo castano lucido ottenuto in modo completamente naturale. La tintura al caffè è un metodo naturale ed ecologico per ottenere un castano lucido senza l'uso di sostanze chimiche nocide. Con pochi passaggi semplici e ingredienti comuni, è possibile trasformare il proprio look in modo sostenibile. Sperimenta questa tecnica e scopri come il caffè può diventare il tuo alleato per capelli radianti e sani. Fai attenzione ad usare prodotti di qualità e non esitare a contattare uno specialista della salute se dovesse avere irritazioni, intolleranze e barra o altri problemi di qualsiasi natura. Grazie mille per aver trascorso del tempo con me. Spero che questo video vi sia piaciuto e che stiate apprezzando i contenuti che condivido con voi. Continuate a seguirmi per rimanere aggiornati sulle ultime novità, condividere idee e trascorrere del tempo insieme. Il vostro supporto è la linfa vitale di questo canale e mi dà la motivazione per creare contenuti sempre migliori. Non dimenticate di lasciare un like, condividere e iscrivervi. Ci vediamo nel prossimo video.